ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi nuovo tutorialino veloce e semplice dedicato alle grani vi avevo fatto vedere nei giorni scorsi spesso le foto di queste grani che ho fatto con tre colori acrilici bordeaux giallo che poi combinazione ho notato adesso che sono anche i colori di harry potter della casa di harry potter griffondoro e questo tortora tortora un po più un scuretto comunque questo beige e il risultato sono queste mattonelle che appunto mostrato in foto spesso nei giorni scorsi e ho pensato di realizzare con loro una fascia per capelli che piace se piacciono sempre tanto fa tanto freddo in questi giorni quindi capitano giuste a fagiolo e appunto sono molto semplici da fare il video scorso vi ho fatto vedere la cucitura semplicissima per unirle vi lascio il video qui sotto ma la vediamo anche oggi le mattonelle sono quelle classiche sono solo quattro giri 1 2 3 4 lo schema vi lascio qui sotto il video con lo schema il link al tutorial col video della mattonella perfetta quindi che come vedete sono belle perfette non l'ho neanche messa in forma quindi sono già così che non non girano non si storgono insomma sono rimangono belle a posto senza nessun intervento è appunto solo tre giri anello magico e tre giri molto semplici di mattonella classica ogni giro io in questo caso ho cambiato coloro ovviamente potete cambiare colori a vostro piacimento e mescolarli come preferite per allora queste mattonelle qua da quattro giri con i filati acrilici e uncinetto numero tre e mezzo quattro sono grandi esattamente nove centimetri circa per fare una fascia ovviamente potete per fare fascia ad esempio da bambini che devono essere meno spese di nove centimetri potete ridurre fare solo tre giri ad esempio anche due per neonati e per una fascia da donna diciamo media servono sei di queste mattonelle quindi appunto ne servono anche molto poche e molto molto veloce da fare io l'ho già preparate chiaramente perché non sto a rifare di nuovo la mattonella vi lascio sempre il link qui sotto se volete imparare la mattonella perfetta l'ho già fatto quindi è inutile ripetermi ancora e allora togliamo queste due io ho già cucito le mie 6 mattonelle 3 e 36 con 6 mattonelle eccole qua viene fuori lunga 52 centimetri circa e nel mio caso doveva essere 54 perché la mia circonferenza della testa 54 ma essendo fatta in lana o acrilico che rimane bello elastico meglio stare sotto di 1 2 centimetri perché altrimenti la fascia potrebbe risultare troppo morbida e scappe tendere a scappare quindi perfetta la misura basta appunto unire le mattonelle il modo potete unirle come preferite io vi lascio qui sotto il link a questa cucitura molto facile direttamente con l'uncinetto che avevo già fatto vedere nel video scorso si uniscono tutte le mattonelle la vediamo comunque insieme qui e poi potete o lasciarla così a vivo nei bordi oppure fare un bordino io preferisco lasciarla vivo ma si può fare un bordo semplice semplicemente a maglia bassissima che richiama la cucitura un bordo un pochino più alto a maglia basso a maglia alta o mezza maglia alta semplice oppure anche un bordo che però la rende un pochino più alta è fatta mezza maglia alta a costa e quindi comunque due giri di mezza maglia alta lavorata una a costa e una no e una normale quindi che viene una costina sia da questa parte che da questa parte poi avendole già unite si lavora semplicemente in tondo e molto semplice e e veloce allora partiamo a cucire l'ultima unit unendo la prima e l'ultima mattonella allora questa cucitura come dicevo è molto semplice è fatta con l'uncinetto facciamo il cappietto con nodo di inizio il cappietto andiamo a puntare l'uncinetto qui nella nella mattonella di destra nella asoletta più a destra più a destra e nella mattonella di sinistra quella più a sinistra quindi quella più esterna prima però passiamo il cappietto dentro mettiamo sull'uncinetto lo facciamo passare fuori così il nodo resta dentro il cappietto resta fuori andiamo a riprendere la nostra soletta qui abbiamo le due asolette prendiamo solo quella di estrema sinistra poi prendiamo il filo fuori perché ce l'avevo di là prendiamo il filo mettiamo sull'uncinetto e tiriamo fuori poi andiamo a puntare in tutte le asole esterne quindi all'estrema destra e all'estrema sinistra e tiriamo fuori e facciamo una maglia bassissima andiamo a puntare nelle asolette estrema destra estrema sinistra punti a prendiamo il filo e chiudiamo tutto poi continuiamo così sempre le asolette esterne prendiamo il filo e chiudiamo tutto e andiamo avanti così a terminare la nostra cucitura questa qui come vedete ne si forma questa regina andiamo avanti a finire e abbiamo già finito la nostra la nostra fascia poi possiamo lasciarla appunto così oppure rifinirla ulteriormente eccomi qua alla fine e ho cucito anche questa ora vado semplicemente a chiudere tutti i punti tutte le cuciture tutti i punti e a nascondere tutte queste codine che ho sul retro che avevo già fissato con il metodo che uso per fissare le codine man mano che lavoro ci vediamo tra poco quando ho fissato tutta questa roba eccoci qua ho eliminato tutte le codine questo retro eccoci qui fascia pronta semplice ma molto molto carina e assolutamente di moda visto che le grandi lo sappiamo sono dappertutto ormai anche sulle passerelle da abbinare a una borsa accessori vari anche una sciarpa che si può fare abbinando le grani in questo modo quindi con un'altezza doppia facciamo una bella possiamo fare una bella sciarpa abbinata e tante altre cose io ne ho già preparata qualcun'altra e vediamo un po se preparo un altro tutorial per abbinare qualche altro progetto una idea che potrebbe essere molto valida ad abbinare a questa fascia che ho già fatto in passato è il portatelefono porta tutto con le grani ora ve lo faccio vedere eccolo qui qui avevo fatto lo stesso tipo di grani a quattro giri avevo solo cambiato i colori quindi nel nostro caso possiamo farlo con lo stesso colore questa è una cucitura diversa quella appunto invisibile con lago vi lascio qui sotto il link al tutorial se per caso vi piace di più questo tipo di unione e quindi bastano altre quattro grandi per fare questo porta telefono porta tutto porta occhiali da appendere quindi da appendere al collo e da mettere in coordinato con la fascia e con altre idee direi che ho detto tutto ci vediamo alla prossima con altri altre idee allora vi dico cosa ho in programma ho in programma un tutorialino di una tecnica particolare ma molto molto utile molto 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 semplice anche quindi il prossimo probabilmente sarà di questa tecnica dedicato a questa tecnica veloce veloce facilissima ma molto molto utile quando abbiamo dei filati troppo sottili e poi ho in mente una fascia che ho fatto vedere già nei giorni scorsi su youtube ve la preannuncio così ve la faccio vedere un attimo una lavorazione intrecciata e bellissima che arriverà appunto prossimamente ma a breve eccola qui l'ho fatta vedere appunto già in foto questa è con un filo sottile e la lunghezza è per una fascia da neonato ovviamente questa lavorazione si può usare anche per altre cose come fasce per capelli va benissimo ma si può usare anche per collane braccialetti guardate che bello e altre idee quindi le vedremo insieme vedremo come si fa è molto semplice ma è veramente veramente bella come vedete qui ho usato un acrilico diverso che poi vi faccio vedere e si può fare di qualunque spessore quindi adesso questa è con un filo abbastanza fine usando invece un filo più spesso o mettendo insieme dei fili sottili quindi inspessendo un filo più sottile come vedremo in quel tutorial di trucchi questo trucco che vi farò vedere a brevissimo si può fare anche molto più spessa chiaramente e la lunghezza a piacere allora come dicevo il prossimo sarà un trucco e poi vedremo questa questa o questo intreccio questa fascia di intreccio ci vediamo alla prossima ciao e buon lavoro con le grani ciao ciao